Allora, lei ha affrontato con grande entusiasmo la sua candidatura a sindaco di Giarra, io lo ricordo, insomma, veramente tanto, tanto entusiasmo e anche l'esperienza da sindaco subito dopo l'elezione. Quando l'è passato questo entusiasmo e perché? Io avevo deciso di… mi ero dato totalmente a quell'attività che non iniziò con i buoni auspici, mi ricordo da una strada di Consiglio Comunale con voti che giravano, insomma, veramente brutto dal primo giorno, non mi aspettavo. Vivevo, venivo da Catania e quindi con un rapporto col Consiglio Comunale in cui c'era rispetto dei ruoli, anche oggi, così a Catania e speravo di riuscire a rispettare i principi istituzionali, quello del valore dell'istituzione che rappresenti, del ruolo che eserciti, dell'importanza del ruolo. Man mano col tempo tutti questi valori si sono un po' affievoliti e io di fatto avevo deciso quasi un anno prima, non andai via perché in quel momento c'era in discussione il piano di riequilibrio che doveva essere approvato, che poi fu approvato e quindi ero certo che se fosse andato via in quel momento nessuno avrebbe potuto seguire quegli atti amministrativi. Quindi è dentro di me questa cosa perché io l'ho deciso di fare il sindaco quando mi è stato proposto, abbiamo messo dei paletti, però pensando di fare tutto quello che ti porti dietro quando sei ragazzo, se fossi sindaco farei questo, ognuno di noi questa frase se la ripete tante volte nella propria vita, se fossi sindaco lì farei questo, se fossi sindaco farei quest'altro. Quando ti rendi conto che le cose per cui ti eri candidato e eri stato eletto non potevi più realizzarlo, secondo me non c'è l'alternativa, l'unico atto di dignità con te stesso e di rispetto nei confronti di chi ti ha votato era quello di dire ci sia qualcun altro che amministra la città nella speranza che quelle cose li possa far lui. Se ti ostini a rimanere lì vuol dire che sei attaccato a ruolo, che sei attaccato al potere, perché se non puoi fare quello che ritieni sia giusto fare non c'è motivo per cui uno debba rimanere attaccato alla poltrona di sindaco. Ha qualche rimpianto rispetto a quell'esperienza? Rimpianto chiaramente non quello di missione, è un atto del quale vado fiero, fiero mi si riconosce ovunque proprio per i motivi che ho detto prima, chiaramente errori ne sono stati commessi, come in ogni cosa, ci sono stati momenti di esaltazione, momenti molto belli, ma come in tutte, ma questo è nel conto, come in tutte le esperienze della vita, non mi sono sottratto un secondo, se vedete qualche immagine già, qui siamo a Catania, ma se vedete qualche immagine mia degli ultimi giorni del mandato avevo perso dieci chili, partendo da quella condizione, la condizione che vedete avevo perso dieci chili. Tutto stress? Era più che stress, tornavo a casa e non avevo fame, non so se era disgusto, la scelta di missione mi venne naturale. Secondo lei la politica è anche e soprattutto compromesso o no? No, è anche compromesso, ma c'è il compromesso positivo, se il compromesso è funzionale a raggiungere un obiettivo e a tenere in considerazione gli interessi contrapposti che ci sono, è un compromesso pulito, se il compromesso è mantenere dei privilegi, no, quello è un compromesso che fa danno alla collettività, quindi bisogna vedere quale e quale obiettivi deve raggiungere col compromesso, il compromesso che viene fuori dietro a un dibattito, che è il punto di equilibrio fra due forze contrapposte, è un compromesso positivo, il compromesso che deve servire per spartire in più persone alcune cose, quello è un vulnus della democrazia, del rapporto con la politica, del rapporto con le persone, no? Quindi io queste cose, ma per formazione, per, insomma, ce li avevo, ce li avevo e continuo ad averle chiare. Lei nel corso dell'ormai noto incontro al Teatro Rex, insomma, dopo le sue dimissioni parlò di una strategia del discredito, una macchina del fango, insomma, che aveva come obiettivo discreditarla non solo dal punto di vista politico, ma anche professionale. Cosa l'ha ferita di più? No, no, c'era proprio un motore dell'odio, no? Che non si fermava, io ogni giorno per un po' lungo attività c'erano dei manifesti, ma tutto era proporzionato ai privilegi che ogni giorno io toglievo, perché quello era il dato di fatto, però voglio dire, io oggi ho il distacco assoluto, sono totalmente sereno perché so di aver fatto quello che ritenevo giusto fare, cioè ogni cosa che ritenevo giusta e producente per la collettività non mi sottraevo, poi con le battaglie che dovevo andare ad osservare, però poi c'erano le contrapposizioni politiche, molti errori, non è che sarei un presuntuoso se dicessi che non sono stati commessi degli errori, ma molti errori, ma quello è nella natura delle cose, quando diceva Borsellino è inutile sentirsi puliti se si tengono le mani in tasca, devi sentirti pulito quando le mani li togli dalla tasca, operi e non ti li sporchi, allora quel tipo di lavoro è un lavoro producente, io ritengo che abbia lavorato tanto, forse la gente si aspettava dell'altro, non ci conoscevamo reciprocamente, io venivo da altre esperienze, poi l'esperienza politica l'aveva fatta a Catania, però nessun impianto da nessun punto di vista, perché gli atti che ho compiuto li ho fatti in piena coscienza, in piena serenità, avendo come unico riferimento l'interesse pubblico, che a differenza di quello che pensano in tanti, non è mai la sommatoria degli interessi particolari, perché gli interessi particolari sono cose diverse, l'interesse pubblico è una cosa che sta più in alto dell'interesse dell'interesse particolare, ed è difficile riconoscerlo in tanti amministratori, perché qualcuno ritiene che facendo 100 favori, possibilmente prendi 100 voti, ma non hai fatto l'interesse pubblico, quella è una cosa diversa. Ma c'è qualcosa che è stata detta in quegli anni che l'ha ferita? Ma tante, tante, che pubblicarono i dati catastali degli immobili di mia moglie, cose comprate 20 anni prima, 25 anni prima, frutto del mio lavoro o di situazioni personali familiari di mia moglie, ma che ne so, l'iPad che mi scompare al comune, la sciarpa che mi viene sottratta, che non la trovo, gli atti intimidatori che ho subito, tutto poi si calmò all'improvviso, quindi vuol dire che alla fine ho fatto bene a dimettermi, ho riconquistato una grande serenità che mi auguro si veda, non ti devi ostinare a fare una cosa che poi in quel momento forse non era neanche nelle corde della città, quindi ti rendi conto che è giusto mettere un punto e fai qualcos'altro nella vita, se hai qualcos'altro da fare. Noi come di consueto siamo andati in giro per la città a chiedere, cosa pensa la gente di lei? Vediamo. Il sindaco Buonaccorsi lo conosco, siamo amici di infanzia, una persona sempre stato estremamente molto per bene, molto serio, come commercialista estremamente preparato, poi adesso lui si è messo in politica e a Catania, il comune di Catania credo, averlo a Giarre secondo me con un buon sindaco sarebbe vincente sicuramente per l'esperienza che lui ha, è naturale. Roberto è come se fosse mio fratello, quindi non sarei libero nel giudizio, comunque una gran brava persona e un grande professionista. È stato su Giarre sindaco, sono sbaglio, per poco tempo, aveva un comune, ha ereditato un comune con un dissesto economico, ha cercato di fare qualcosa però da quello che ho capito non è riuscito a fare granché, devo solo dire una cosa, devo spezzare una lancia a suo favore perché giustamente la minoranza non aveva grandi possibilità di movimento, devo spezzare una lancia a suo sfavore, pessima comunicazione con i cittadini. La sua indizionale è di fare tante cose bellissime, soprattutto di sistemare, come dire, piazza Duomo, di fare tutte le nomi da piazza, una cosa, l'idea era bellissima, poi non lo so che cosa è successo, anche perché è stato poco in carica, come giudizio oggi io non sono giovanese, una brava persona, però ripeto, non ho mai avuto a che fare con noi, tutti parlano benissimo, per conto non è mai il sindaco quello che comanda, voi lo sapete, ma sono sempre quello che c'è dietro. È difficile per qualunque persona, soprattutto per Roberto Bonaccorsi che è una persona onesta, come persona non c'è niente a che dire, anche tuttora il sindaco quello che c'è ora va bene, però non vedo futuro, non vedo prospettive, per me è positivo, per me è stato positivo, giustamente senza materie prime non si riesce a fare niente, senza liquidità non si riesce a fare niente, di fatti si può vedere il paese di Giaro come ridotto, cumuli di spazzature dove vai vai, verde pubblico non ne parliamo, l'erba ci sta arrivando fino sopra la testa, che dire, non vedo futuro. L'esperienza di Bonaccorsi è stata, secondo me per quel poco che è rimasto, un bravo sindaco, ha cercato di fare del bene per Giaro, forse ha avuto un po' di ostruzionismo da parte di qualcuno, a quanto mi sembra. Una buona esperienza, per quello che penso io. Devo dire che il vice sindaco di Catania, a mio avviso, sta facendo davvero un ottimo lavoro, è una persona in gamba, ha in un certo senso preso in mano la situazione di Catania e si è comportato in maniera davvero egregia. Il dottor Bonaccorsi sicuramente è una persona che sa il fatto suo, perché ha delle esperienze anche passate nelle amministrazioni della città di Catania, è una persona anche professionalmente parlando che sicuramente sa fare il suo lavoro. Chiaramente l'ambiente giarrese è difficile, perché è retta una problematica di base che già ci riportiamo da tanti anni e quindi fare un buon lavoro a Giarre significa fare quasi un miracolo. Quindi sicuramente è meglio dell'amministrazione attuale, in quanto secondo me ci sono più competenze rispetto a quella attuale. Nulla togliendo al sindaco Tanna che è una bravissima persona, ma secondo me manca un po' di polso rispetto a quello che potrebbe avere Bonaccorsi, che mi sembra una persona più addentrata nelle stanze di palazzo e quindi più propensa a degli accordi, ad avere un rapporto più vicino alla politica e quindi a fare probabilmente anche meglio. Quasi un plebiscito, noi non tagliamo mai nulla, questo che sia chiaro per tutti. Si è andata a scegliere apposta. No, 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 assolutamente, noi non eliminiamo assolutamente nessuno. No, scherzo, scherzo, no, no, mi fa molto piacere, sono passato cinque anni dalle mie dimissioni, ho una… mi si viene riconosciuto quando sono a Giarre, da questo punto di vista la gente la gente ha capito le difficoltà, ha capito il perché delle dimissioni nel solo interesse della città. Io non mi ricordo sindaci che in Bonis si siano dimessi, anzi rimangono aggrappati al potere fino all'ultimo giorno. Quindi ritengo che questo mi sia stato riconosciuto e quindi non mi aspettavo che, insomma… Forno stringendo mani e tagliando nastri, insomma. No, ma questa cosa del nastro che mi porto dietro, cioè io a memoria non mi ricordo che mi abbia tagliato uno, però non sei lì per fare questo. Nella riforma del testo unico degli enti locali si usa poco il termine sindaco e più quello di amministratore, proprio perché l'attività col federalismo fiscale, con il mutare dei meccanismi che servono per gestire un ente, la figura è più quella di amministratore che non più quella di rappresentante dell'ente, con le mille responsabilità che poi questo ne comporta, perché sei un sindaco ogni giorno che mina in un crinale, davanti a, da una parte la possibilità di commettere reati di abuso d'ufficio, dall'altra parte quelli di omissioni di atti d'ufficio, quindi con una difficoltà enorme. Se non hai capacità di valutazione degli atti, anche dal punto di vista amministrativo, sei nelle mani spessissimo di qualche dirigente che ti indirizza e qui deve essere fortunato a trovare poi delle persone oneste. Quindi è veramente, veramente difficile, tanto che la cronaca locale degli ultimi giorni, soprattutto per le elezioni delle grandi città, ci fa vedere che come molti sindaci non si ricandida. Io ho conosciuto in quegli incontri al Ministero, ho conosciuto l'Appendino, che appartiene a un mondo politico che non mi piace per mille considerazioni, quel mondo di 5 stelle, per come è arrivato ad ottenere quei risultati dal negazionismo estremo di alcune cose e poi dopo alcuni mesi hanno cambiato totalmente le idee. Però era una persona, ed è una persona con grandi valori, con grande conoscenza. La difficoltà che si ha nel trovare sindaci che si candidano, questo significa che la difficoltà del ruolo è veramente tanta. Mi tengo che il legislatore qualche valutazione dovrebbe farlo. Non so, la cronaca di questi giorni, quel sindaco è stato rinviato, no, è stato, gli è arrivato un avviso di garanzia perché una bambina o un bambino si è schiacciato le dita in una porta in un asilo. Qui siamo alla follia pura, ritenerti responsabile di tutto quello che passa attorno all'ente. Ed è difficile. Quindi io ritengo che la capacità di discernere e di valutare gli atti amministrativi sia un elemento indispensabile per chi voglia fare il sindaco. Lei è stato definito un freddo amministratore. Ma freddo, il fatto che alla fine mi si è dimesso vuol dire che non sia stato tanto freddo. Forse all'esterno sembra così. Io ho vissuto con molta passione quei due anni e mezzo, veramente con partecipazione enorme. Mi ricordo tutte le piccole manifestazioni culturali, l'estate del libro, gli incontri, tutte queste senza mai pesare un centesimo nelle casse del comune, inventarti soluzione. Mi sono gratificato. Poi lì ho dovuto coinvolgere spesso gli amici da Sebastiano Messina a Pietrangelo Buttafuoco che venivano gratuitamente. Anzi, Pietrangelo mi diceva, mi avvisava quando veniva a trovare ancora c'erano i suoi genitori per non farmi pesare il costo del biglietto aereo nella trasmissione. Stiamo parlando di gente molto, ma molto importante a livello nazionale. Quindi c'è stata una partecipazione di tanti soggetti che si sentivano partecipare di quella ventata di novità che poi alla fine è finita in maniera traumatica, ma io non me ne faccio… lo ripeto, sono fiero di quello che ho fatto. È stato accusato anche di non essere riuscito a salvare il comune di Giarre dal dissesto? Il comune di Giarre dissesta dopo due anni e mezzo che io me ne sia andato. Non è che dissesta il domani mattina. Questa domanda mi è stata posta. Io ribalto, siccome lo trovai in grande difficoltà e ho detto poco fa che non mi sono dimesso prima proprio perché volevo accompagnare l'approvazione del piano di riequilibrio, io ribalto il problema e se il comune di Giarre è dissestato proprio perché non ce l'ho più io? Un altro punto di vista chiaramente. Ritengo che qualcosa si poteva fare, ma il dissesto non è un atto così traumatico, è la presa d'atto di alcuni percorsi. Il fallimento nella cultura anglosassone è una spinta per fare meglio, non è mai un fallimento personale, quindi anche il dissesto. Roma non dissesta perché il legislatore intervenuto ha diviso i conti in due parti, ha stornato 12 miliardi di Euro, 12 miliardi di debito da una parte, li sta facendo gestire da una commissione e dall'altra parte. Torino è la città più indebitata d'Italia, Napoli non dissesta e sono tutti amministratori con cui purtroppo fortunatamente in questi tre anni ho avuto modo di confrontarmi, sono tutti amministratori che sono lì e gestiscono comuni che non dissestano proprio perché sono comuni troppo grandi, Giarra era un comune debole da tutti i punti di vista, un comune politico, ma l'attività del dissesto è un'attività complessa. Io ritengo che rispetto alle condizioni nelle quali avevo trovato il comune di Giarra, quella rimodulazione del piano di riequilibrio perché il comune di Giarra è in predissesto prima che arrivi io, non ce lo dimentichiamo, era già in predissesto, era stato votato dal precedente consiglio comunale, ma io non ne faccio responsabilità a nessuno, i fatti vanno in un determinato modo. Lei si è scontrato con parte della dirigenza giarrese, di quella dirigenza tra l'altro oggi non è rimasto davvero molto l'ultimo ad andare via in ordine di tempo, il comandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò, cosa pensa di questo e cosa dovrà affrontare il prossimo sindaco? Guardi, non lo so, il comune delle stesse dimensioni di Giarra che abbiano la dirigenza ce ne sono pochi, quindi già il fatto che ci fossero 5-6 dirigenti nel comune era quasi un'anomalia rispetto alle dimensioni del comune. Io ritengo che individuare, ma trovando le persone giuste, 10 alte professionalità con una ripartizione delle responsabilità per ognuna delle direzioni, per il comune di Giarra possa essere una soluzione, una soluzione alla quale stavo lavorando, perché ritenevo in quel momento la dirigenza fosse un peso anche nei procedimenti amministrativi. Quindi l'idea che avevo maturato era quello proprio di, chiaramente non toccando le persone, che della dirigenza se ne poteva fare a meno, però quello che è grave non è il fatto che vengono meno i dirigenti, ma è un problema comune a tutti gli enti locali che visto il fatto che gli ultimi concorsi, almeno a Catania fu così, ma già ripenso la stessa cosa nella pubblica amministrazione, sono stati fatti nel 1988, significa 33 anni fa che l'anzianità media dei dipendenti del comune di Catania è di 59 anni. A Catania ogni anno vanno in pensione tra i 150 e i 180 persone e non c'è ricambio generazionale, non ci sono energie, il vero dramma non sono i 6 o i 5 dirigenti che vanno via, ma l'impossibilità di fare turnover, di mettere forze fresche, capaci, ragazzi con voglia e intelligenza che mettono in moto un circuito positivo perché il ragazzo brillante genera contaminazione con quelli che stanno e che lavorano dall'altra parte. Quindi ritengo che il problema più grosso alle pubbliche amministrazioni è proprio questo, avere la forza, infatti la sfida più grande che ho lanciato dal comune di Catania è quella di dire che cerchiamo di chiudere in fretta e riuscirci nei 5 anni al dissesto per poi avere la possibilità di fare un concorso di 500-600 unità che servono per compensare tutti quelli che stanno andando via, ma soprattutto per rimettere in moto l'energia di un ente che non può vivere con lavoratori che hanno un'età media di 60 anni, è un ente che è fuori dalla realtà. I soggetti che avevano vinto quei concorsi erano soggetti adatti a funzioni che non esistono più negli enti locali. Io lo ripeto sempre, a Catania mancano, ma ritengo anche a Giar, ora mi sfuggono i numeri di Giar, essendone distante da 5 anni, mancano geometri, non esistono, devi andare a misurare uno spazio pubblico per dare una concessione, diventa un problema, mancano ingegneri, ma siamo pieni di messi, di portantini, di gente che era stata assunta, di autisti che era stata assunta per altri ruoli, in un mondo, in un secolo, in un millennio scorso, quindi il mondo è totalmente cambiato, quelle figure sono ancora lì, è giusto che continuino fino alla pensione, ma non c'è stata la capacità di rigenerarsi, il problema vero è questo, non i 5 dirigenti che mancano. Parliamo dell'ospedale di Giar, a breve, anche se la situazione al momento è un po' stagnante, dovrebbe riaprire il pronto soccorso, almeno è questo l'impegno che si è assunto Presidente della Regione Siciliana nell'Omusumeci, di chi è il merito di questa riapertura dopo anni di battaglie? Guardi, io ne ho parlato con Ruggero, con cui sono caro amico, sono felice che sia ritornato nel proprio ruolo, spesso ci incontravamo e ci siamo incontrati anche in questo periodo per problemi professionali, più che problemi attività professionale in comune. questo dimostra che se c'è volontà politica le cose si fanno, questo me lo spiegarono quando trovavamo quella soluzione che dicevo che poi ha contribuito a risolvere i problemi del distesso al comune di Catania, in una riunione a Cassa Depositi e Prestiti mi si disse se c'è volontà politica le soluzioni si trovano, si fanno le norme, si trovano le risorse e mi spiegarono quello che era successo per Roma, anche qui. Io mi trovai, ero sindaco nel periodo della chiusura, di fatto c'era un cartello pronto soccorso, ma se qualcuno si faceva male in autostrada, l'autombulanza lo portava prima all'ospedale di Giarre, lo mettevano in un'altra autombulanza e lo portavano all'ospedale di Acireale, con rischi enormi per la salute di quel poveretto, in questi casi anche 30 secondi diventano determinati. Mi assunzi alcune responsabilità, una delle quali quella di mandare a quel paese perché ritenevo che la sua risposta fosse offensiva dei cittadini di Giarre, l'ex presidente della regione. Io in una riunione alla sede a Catania, ripetevo, lui mi portò i dirigenti per spiegarmi tutta una serie di considerazioni. Io gli ho detto, voglio sentire da lei, quello che mi dicono i dirigenti non mi interessa perché lei dà l'indirizzo politico e voglio capire quello che vuole fare lei, non quello che vogliono fare i dirigenti. Questa esperienza è quello che sta facendo il presidente della regione, dimostra che se c'è la volontà politica alcune cose si fanno, se non c'è la volontà politica si depauperano gli ospedali, si chiudono perché si hanno altri indirizzi. Qualcuno disse che lei accettò un piano a ribasso per l'ospedale di Giarre. No, io mi sono confrontato con la mia coscienza perché non puoi avere una croce rossa per dire che c'è un pronto soccorso. Un pronto soccorso esiste se chiunque ne abbia bisogno, quando arriva lì può ricevere tutte le cure, quindi la diagnostica, la chirurgia, la medicina, qualunque sia la sua problematica possa essere risolta, ma se serve solo per far arrivare un'autombulanza, per poi essere trasbordato, per andare ad un'altra parte, il perpetuare questo stato di cosa e sarebbe stato di una responsabilità troppo grande, bisogna dire le cose come stavano. Io ho preso atto di quella situazione che già durava da qualche anno e mi sembrava veramente da incoscienti continuare in quel modo, non c'era possibilità alternativa che ti davano le cose, la battaglia è stata lunga, ma lo ripeto, grazie a Nello Musumeci, se oggi si può pensare di poter riavere il pronto soccorso. Durante quei due anni e mezzo a Giarre, è rimasto deluso da qualcuno in cui credeva e di contro, invece ha scoperto qualche persona? Ma certo, ma certo. Ma ci faccia qualche nome però. I nomi per rispetto non se ne fanno. Qualcuno che ricorda con particolare affetto il nome ce lo può fare. I nomi per rispetto non se ne fanno, la gente mette davanti l'interesse politico, io no, io non me lo pongo questo problema, davanti all'interesse politico spesso qualcuno perde anche il lume della regione, tante delusioni. Mi ricordo come si speculò per quell'avviso di garanzia, ma neanche sì, era nella fase preliminare che investì tutta la giunta di Catania sull'originario, ma neanche un buco, perché non si era trovato di buco, su un'indagine sui conti del comune di Catania. Io fui, dopo due anni di indagini intense, di soggetti, di un mandato all'ispettore, non si arrivò neanche al processo, fui prosciolto perché il fatto non sussiste, ma nessuno ne diede menzione di questo. E tutti quelli che si erano, che rivendicavano, attenzione alla legalità, ricordandolo in ogni momento, spesso in quella macchina dell'odio che mi era venuta fuori, accusandomi di tante cose, non ha mai sentito il coraggio di chiedermi scusa per le cose che aveva detto. Io ero totalmente sereno, sapevo, lavorando si sbaglia, ho detto poco fa, avevo un crinale da una parte, un reato da una parte l'altro, quindi però, però, sapevo di aver agito con tanta coscienza, poi davanti a una realtà che spesso non riesci a percepire totalmente. Certo, c'è tanta gente, ma anche sorprese positive. Ma qualche nome sulle sorprese positive si possono fare? No, partecipazione, che ne so, tutta la struttura amministrativa dell'ufficio della ragioneria che si sono date anima e core per dare un contributo all'ente, per aiutarmi in due anni e mezzo di mandato, quasi tutti senza dirigente, quindi con la necessità di fare quegli atti, no, no, ma abinnegazione da parte di tanti. No, da questo punto di vista c'è stata anche, ma che mi viene manifestata anche oggi. No, io le posso raccontare un altro aneddoto, che forse ho già raccontato. Io ricevevo un giorno una settimana, la ricevevo giù all'ingresso del comune e siccome volevo ricevere tante persone, di solito l'incontro durava un quarto d'ora e intanto ricevevo anche lì con la porta aperta e spesso con un testimone perché… Fidarsi bene, non fidarsi bene. No, insomma, era una garanzia per chi entrava, ma soprattutto per me, non dovendo nascondere nulla, ero sereno che ci fosse qualcuno che potesse raccontare quello che si era detto in quei minuti. Vennero una coppia di signori distintissimi, anziani. Io quando ci sono seduti la prima cosa che chiedevo a tutti è cosa ha bisogno. Poi le racconto un'altra edizione che mi fa ricordare, parlando mi ha fatto ricordare altro. Quindi mi dicono nulla e allora perché siete qua? Era il periodo di Natale, c'era quel bellissimo albero con le stelle di Natale. Dice, volevamo ringraziarla. Grazie. E perché cosa? Dice, guardi, noi non venivamo a gioare da tanto tempo, siamo qui perché dovevamo sbrigare le pratiche di successione per un nostro parente, abbiamo una casa nella quale non andavamo da anni. Questi giorni che abbiamo passato in città ci stanno facendo cambiare idea a tal punto che stiamo pensando di rivenire di nuovo, abitare una Roma, di rivenire di nuovo ad abitare qui. Questa è stata una delle piccole, grandi soddisfazioni che ti rimangono. Invece quell'altra che era da ridere, quando ricevevo le persone si sedevano dall'altra parte del tavolo e cominciavano a parlare. Io sempre, pensando che il quarto d'ora scorreva e poi dovevo ricevere altre tre da persone, dicevo, mi dica, e queste cominciavano così, in diretto siciliano, tutti, tutti indistintamente, un nesta iu iu, cioè il loro agio d'azione, il loro agio di interesse era casa loro e 25 metri, la buca, la lampadina che non funzionava, il marciapiede sporco, giustamente tutte attività che dovevano essere fatte. Ma sta cosa mi faceva riflettere, no? Perché il loro campo, il comune era un nesta iu iu, tutto quello che succedeva a 150 metri, zero, nessun suo slancio ideale, si aveva pensato questa cosa, sarebbe avuto per la città che si facesse questo, no niente, un nesta iu iu, questa cosa mi è rimasta in Bresta, un nesta iu iu. Immagino. Parliamo dei rapporti con i sindaci dei comuni vicini, insomma c'è stato qualche rapporto di conflittualità, anche di competizione, oggi come guarda quegli anni? No, ma mi viene, pensando ci viene da ridere, perché era una sana competizione, io per tutta una serie, ma perché il comune di Java era il comune capofila in tutte le attività, perché era il comune più grande, mi trovavo spesso a essere lì e a essere colui che rappresentava tutti gli altri enti, però insomma anche lì ho scoperto, ho instaurato delle amicizie che mi porto anche ora dietro con persone che non conoscevo, insomma il sindaco di Piedremont d'Ateneo, con Ignazio è nato un rapporto di stima, ritengo reciproca importante, col sindaco di riposto dopo qualche piccolo screzio, insomma ci siamo rivisti e ritrovati in maniera più serena, insomma ritengo che alla fine le comunità qui, la comunità è unica, non è che ci siano gli interessi sono quelli che tutti noi vediamo, poi i problemi sono comuni per tutti i sindaci. Lei vive ancora a Giarre, come vede oggi la città da residente? Io l'ho detto in premessa, non voglio entrare nel merito di mie valutazioni che possono poi avere una rifluenza sulla campagna elettorale, su quello che possono, perché mi voglio astrare totalmente da… Beh però lei vive a Giarre… No, vivo a Giarre, so le difficoltà di chi amministra e come so che alcune cose potevano essere fatte diversamente, ma se credo al sindaco vi dirà il perché, perché non li ha fatte, per quale motivo non ha fatto alcune cose, quindi le difficoltà che ha amministrato una città sa che le difficoltà sono talmente tante che vederle da fuori alcune cose sembrano semplici, ma purtroppo così non è. Cosa spera per la sua città? Io spero che chiunque sia il sindaco abbia alto il senso dell'istituzione che rappresenta, che non è una cosa di poco conto. Il valore dell'istituzione è un valore molto importante, lì discende tutto quello che viene dopo, ma in termini di decoro, di dignità del ruolo, di rappresentanza, cioè ti devi ricordare, che ne so, io faccio l'esempio, tranne raramente, non mi ricordo di non essere andato in Consiglio Comunale senza gravatta e giacca, lo ritenevo un mio dovere, io ero rappresentante di 30 mila concittadini e ritenevo che questi dovessero essere rappresentati con decoro. Sembrano sciocchezze, ma io lo ritengo un atto importantissimo, perché significa che tu cominci ad avere dentro il valore del tuo ruolo, perché non puoi andarci in tono dimesso, non sei lì a farti una passeggiata, sei lì come rappresentante di una comunità, quindi decoro, valore dell'istituzione, abnegazione, tempo e poi un po' di ironia, secondo me che non guasta il saper prendere le cose con un poco di distacco, io qualche ristata poi me la facevo, non è che nonostante i 10 chili riuscivo a ridere, quando andavamo in regioneria che si era un po', che si cominciava a lavorare, quell'ambiente lo ritenevo più consono alle mie attitudini. Crede che oggi non si rida molto? Come? Crede che oggi, dico, non si rida molto, non si viva con questa ironia? Non glielo so dire, però la percezione è che c'è un elemento di seriosità che non è essere seri, che è una cosa diversa, di una pesantezza diversa, che non sia così, l'impressione è questa, le difficoltà sono aumentate, però l'ironia è determinante. Tra qualche mese voterà anche lei a Giarre, il quadro non è ancora nitido, ma sa già chi voterà. Io scherzando glielo avevo anticipato, io so con certezza per chi non voterò, quello lo so, con certezza per tutti quelli che non voterò lo so, non so ancora per chi votare, ma so con certezza per chi non voterò. Ci facciamo bastare questa risposta. Allora, un'ultima domanda, come e dove si immagina tra dieci anni? Mi auguro qui. Qui su questo video. Intanto qui. Io appartengo a quella categoria che pensa che le cose vanno costruite e che poi quando raggiungi un obiettivo sia più frutto del merito che non del caso. è stato così per tutta la mia vita. Quando giocavo a calcio ritenevo che l'allenamento fosse determinante per poi giocare bene la domenica e quindi la preparazione. L'università, liceo ho studiato poco, l'università invece ho studiato tanto, ho recuperato quello che non avevo fatto al liceo. L'università anche lì, applicazione, studio, è così nelle varie tappe della vita, non tralasciando nulla. Nel suo militare ho fatto il corsallievo ufficiale, ho fatto l'ufficiale di complemento perché ritenevo che forse quell'esperienza mi poteva servire nella vita. Invece di adagiarmi a fare il tirocinio a giarre, ho ritenuto che farla a Catania mi permetteva di instaurare relazioni sicuramente rispetto a problematiche più importanti che mi potevano essere utili con il lavoro e così per ogni fase della vita. Quindi ti trovi, diciamo che ognuno di noi si troverà nel luogo più adatto rispetto al percorso che ha costruito, non lo so, ma col disincanto giusto, io ritengo di, siccome mi piace il mio lavoro, ritengo di poter lavorare ancora per tanti anni. Non ambisco alla pensione, non appartengo alla categoria di chi ambisce la pensione. Spero di poter ancora lavorare. Non so dove, ma vediamo. Sono le 22.34, abbiamo sforato di qualche minuto, io la ringrazio davvero tanto per essere stato qui con noi e per essersi aperto. Speravo un qualcosa in più, però va bene così ci accontentiamo. Grazie. Grazie, grazie a voi.